Il posto è venuta, aspetta così, a vedere se hai un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è un quadrato, a vedere se hai un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è un quadrato, a vedere se hai un quadrato. Il posto è 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 un quadrato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.